C'è un'altra parte di teatro? In questa serata è inevitabile perché la prima parte della platea è fatta tutta dai candidati e allora il candidato ovviamente è teso ad aspettare il momento in cui verrà o no premiato e quindi c'è un po' meno attenzione per la parte spettacolare, però diciamo che superata le prime file poi c'è la Suburra che invece mi adora e quindi va bene così. Beh ha ragione il direttore, non avrebbe i numeri per andare in prima serata, allora poi si parlerebbe di serata toppata del cinema, toppata della premiazione, no preferiamo avere una platea commisurata all'interesse che deve avere questa manifestazione.